E' con orgoglio che oggi vi annuncio una grande vittoria che non è solo mia e del Movimento 5 Stelle ma che è di tutti i commercianti e le famiglie della nostra Regione. Grazie ad una mia proposta approvata in Consiglio regionale da oggi in Campania partono i saldi. La data era inizialmente stata fissata al primo di agosto, la Regione Campania in maniera assurda aveva accettato la determinazione di una data unica nazionale della conferenza Stato-Regioni. Noi abbiamo ascoltato le preoccupazioni fortissime dei commercianti che ci dicevano di avere i negozi vuoti e che ci dicevano di non essere stati ascoltati da De Luca e dalla Regione Campania. Ci siamo fatti portavoce del loro bisogno, lo abbiamo trasformato in proposta, la proposta è stata approvata ed oggi l'anticipo dei saldi è realtà. Sono orgogliosa di questa misura perché come vi dicevo non solo da ossigeno ai negozi del nostro territorio che fino a oggi erano rimasti vuoti per via della crisi ma da anche ossigeno alle nostre famiglie che con più serenità potranno entrare e spendere all'interno dei negozi della Campania. È la dimostrazione che quando la politica, le imprese e i cittadini si mettono insieme e lavorano per lo stesso obiettivo poi succedono grandi cose. Grazie.